Questa è la copertina, questa è la bandella anteriore, la seconda di copertina, la bandella posteriore, terza di copertina e questa è la quarta di copertina. La stessa cosa per un libro che abbia la copertina rigida, si mette la sovracoperta ed è la stessa identica cosa, copertina, bandella anteriore, seconda di copertina, bandella posteriore, la terza di copertina e la quarta di copertina.